Andiamo invece alle cose purtroppo serie, perché qui si parla di una cosa seria, ossia dell'indagine che oggi ha portato agli arresti 19 persone delle tifoserie di Inter e di Milan. E' un caso molto particolare perché le accuse per i 19 sono molto serie, adesso le vedremo nel dettaglio, ma è ovvio che queste cose in un certo qual modo, anche se il sostituto procuratore ha subito spiegato che Inter e Milan sono parti lese, è chiaro che comunque si riverberano anche sull'andamento della società, soprattutto il giorno prima di una partita di Champions League, perché noi sappiamo che le curve creano dei movimenti, creano anche quelle che sono, quando parliamo di curve sane, quelle che sono tutte le coreografie e tutto il resto. Allora, non so se senza Dana ci riuscite a non distrarvi e raccontarci tutto bene, cosa è successo nella giornata di oggi, Dana la lascio qui così non vi distrai, andiamo tranquilli. Allora, l'abbiamo sentito tutti oggi perché comunque è stato il caso di giornata, in questo momento passiamo dalla prima vittoria del Cagliari sul campo al primo caso extracampo di questa stagione. Caso vero che riguarda appunto le curve di Inter e Milan. Io cercherò di essere sintetico perché comunque c'è tutta una cronologia da rispettare, tant'è che la procura di Milano ha fatto esplodere tra virgolette la bomba facendo partire l'indagine nei confronti dei gruppi ultras di Inter e Milan. Perché? Perché l'accusa è quella di associazione a delinquere con aggravante di metodo mafioso. Queste accuse vanno contro un gruppo organizzato di tifosi, che sia di Inter e di Milan insieme. Anche congiuntamente. Esattamente, anche congiuntamente, tant'è che dalle intercettazioni che sono emerse, poi se volete le approfondiremo, c'è anche un contatto tra le due tifoserie in cui si dice più o meno testualmente a noi del risultato non interessa, della prestazione non interessa, del campo non interessa, ci interessa il profitto. Queste sono state un po' le parole che sono state sbattute fortemente in prima pagina oggi e danno l'idea della questione. E poi vedremo come arrivava questo profitto, vedremo anche se e cosa rischiano le squadre di Serie A. Ripeto, non è un caso, sono partilese. Esattamente. Quindi, diciamo, è presumibile che non ci sarà uno strascico dal punto di vista calcistico, però lo andremo a approfondire. E abbiamo la fortuna qui di avere il professor Taormina, perché il professor Taormina ha già seguito un caso praticamente analogo, simile. Con il Giapposino lo so. Se lo ricorda molto bene anche Marcello Chirico, che riguardava la Juventus, in cui la Juventus, se non vado errato, denunciò. Sai chi denunciò? Della Juventus, Paieretto, fratello dell'arbitro. Dobbiamo andare in pubblicità, quindi preparati prof, che ci devi spiegare dal punto di vista pratico che cosa comporta questa denuncia e quali sono, insomma, se ci sono, i rischi per le società. Perché c'è ancora qualche cosa che dobbiamo finire. Intanto è intervenuta la procura, oltre alla procura è intervenuta la procura sportiva. La procura della FIGC. La procura della FIGC. Certo, perché ha chiesto i fascicoli della vicenda per vederci chiaro anche dal punto di vista sportivo. E poi che significa il commissariamento che è stato ventilato? Oggi si rimbomba questo termine, significa commissariamento è un termine che comunque poi abbiamo anche il prof. Il prof ce lo spiega, tu spiega, però chi ha proposto questo, come è uscita fuori questa cosa. È stata fuori questa cosa perché sarebbe la pena massima se venisse fuori che Inter e Milan sono coinvolte in qualche modo, comunque concorrono alle colpe delle due curve. Perché è vero che Inter e Milan sono partelese, ma è vero anche che la magistratura le ha già segnalate come convocate per venire poi a testimoniare e a parlare, anche in qualità di partelesa, di quello che è accaduto. Quindi in qualità di partelesa sarebbe un commissariamento, allora ce lo spieghi tecnicamente prof, sarebbe un commissariamento che non nascerebbe per colpa, ma sarebbe a tutela delle squadre. Che vuol dire? Allora, intanto per quello che riguarda i coinvolgimenti della società, la società attualmente è persona offesa che potrà costituirsi parte civile, però diciamo così, dipende da quelle che saranno le situazioni che saranno accertate, perché all'interno delle società possono esserci persone, le quali, e sicuramente ci saranno, operavano insieme a questi ultra collegati a loro volta ad organizzazioni mafiose, quindi è una catena che sicuramente porterà all'interno delle due società sicuramente dei coinvolgimenti. Poi si tratta di vedere, parlo del penale, poi si tratta di vedere se le società potranno effettivamente continuare a mantenere la posizione di persone offese costituite da parte civili, perché, diciamo così, per quelle che sono state le esperienze che sono state fatte, quelle fatte con la Juventus sono esattamente speculari, la Juventus a un certo punto non ce la faceva più e, appunto, come ricordavo prima, fu un personaggio noto, perché era il fratello dell'attuale arbitro, non so se lo è ancora, Pairetto, che era un responsabile della Juventus e che, pressato, ormai disperato da quello che doveva passare per effetto di queste pressioni violente, che a un certo punto di sua iniziativa prese e fece denuncia. Lì la Juventus, diciamo così, riuscì a partire bene, quindi a mettersi per prima in campo, e quindi ha risolto, non risulta essere stata qualche d'uno così, ma niente di particolare, non è stata... Si tiravano fuori gli striscioni Superga e Isel apposta. Ma lì c'era un'organizzazione mafiosa a tutti gli effetti, che avevano addirittura diritto ad una parte dello stadio, che i posti li gestivano loro, voleva... Qui c'è il bagarinaggio. Guarda, e la vendita addirittura dei biglietti. Per dirti, tu hai detto è speculare, per dirti quanto è speculare, nelle intercettazioni cosa compare? Non scoperarmi, analogo, in pratica, perché è apparso che l'ormai ex capo ultra dell'Inter, che figura tra l'altro tra i 19 arrestati di oggi, entrò in contatto addirittura con Simone Inzaghi per recuperare 200 biglietti in più di quelli consentiti e rilasciare dalla società per la famosa finale di Champions League contro il Manchester City. Ma io accennavo prima. Rimbalzando poi l'incombenza a sua volta, da come si evince dalle intercettazioni, a Marotta che aveva l'ultima parola. Concludo dicendovi una cosa. Questo modus operandi è stato intercettato in primis anche all'interno della curva del Milan, infatti l'indagine riguarda entrambi, tant'è che è comparsa oggi pomeriggio anche la notizia di un incontro documentato tra l'ex capo ultra del Milan e Calabria, in un bar. Quindi si è capitano del Milan. Allora, questo che cosa dimostra? Dimostra che sarà molto complicato, che diramazioni all'interno delle società non possano essere in qualche modo coinvolte. Lascio da parte, perché non è un tema secondario e successivo, giustamente avete ricordato che la procura federale della federazione si è già mossa, perché poi ci sono tutti i problemi della giustizia sportiva e ricordiamoci che mentre in penale la responsabilità è personale, nella giustizia sportiva la responsabilità è oggettiva. Quindi veramente si tratta di una situazione... Maurin... Però scusa, posso dire? Io vorrei che si fosse consapevoli, perché le organizzazioni intranghetiste ormai hanno occupato tutto il nord d'Italia, Piemonte e Lombardia, perché là stanno i soldi e là sta il lavoro, stanno gli appalti, eccetera, ma che si deve essere consapevoli del fatto che non è soltanto questo aspetto della gestione degli stati, ma è la gestione delle società. Io ricordavo in apertura, questa sera, di un importante processo che è stato fatto, nel quale addirittura giocatori venivano, non lo so se è successo con Milano e con l'Inter, nella Juventus è successo, perché è stato un fatto proprio oggetto di contestazione, per il quale è stata pronunciata sentenza di condanna, passata in giudicato, quindi possiamo parlare senza correre nessun rischio, di giocatori i quali venivano imposti dall'indrangheta, non ultra, no, ultra, drangheta travestita da ultra, e imponevano alla società, anche la Juventus l'ha subita, imponevano alla società l'acquisto di determinati giocatori. Ti volevo dire che alla base di questa inchiesta ci sono due omicidi, uno di due anni fa il capo ultra Boiocchi ammazzato in un regolamento di Conte, ed essendo capo ultra dell'Inter fu fatto sgomberare a forza... Ma era un capo mafia? Esatto, fu fatto sgomberare a forza dagli ultra dell'Inter la curva, cioè fu mandata via la gente apposta. A settembre, all'interno di ultra dell'Inter, uno è stato ammazzato per un altro regolamento di Conte, proprio sul business all'interno dello stadio, all'interno e all'esterno dello stadio, riguardante parcheggi, marketing, di tutto c'era. Quindi nell'ordinanza si parla di società che obbediscono a torto collo, quindi lì qualcosa, una mancata denuncia comunque ci deve essere stata, perché le società hanno l'obbligo di non intrattenere rapporti di questo tipo con gli ultra. Per esempio la vendita dei biglietti fuori Torino, per esempio. Questi hanno ottenuto centinaia di biglietti su cui hanno lucrato. 1.500, Fabrizio, 1.500. Ne avevano 800, ne chiesero 200 in più, la società gliene le fece arrivare 1.500, tant'è vero che in un'altra intercettazione il capo disse me ne hanno dati talmente tanti che adesso... Ma di che parli, della Juventus o dell'Inter? No, no, dell'Inter di adesso. Alla Juventus succedeva di peggio. Allora Dana, che non ha altri occhi che per la relazione, mi sta dicendo che Luca vuole intervenire, non so che è successo. La Juventus aveva addirittura ceduto i posti dello stadio, quindi... No, 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 ma lei ha raccontato con dovizia di particolari, perfetto, tutto quello che è successo, professore. No, 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 ma io si salvò. Merito alla Juventus, si salvò ancora. Merito alla Juventus, intendiamoci. No, ma la Juventus si salvò ancora grazie a quella denuncia. Esatto. Nel momento in cui denunciò si salvò e da sul fronte penale... Praticamente, che sta dicendo Marcello? La Juventus si è salvata grazie a quella denuncia, quindi Inter e Milan potrebbero non salvarsi, visto che la denuncia non l'hanno fatta. No, più che altro, no, io sai che cosa ti dico? Bisogna capire perché noi non sappiamo com'è partita la... Se è partita in maniera autonoma... L'inchiesta per omicidio. Dall'omicidio è partita. Dall'omicidio. Sono due, come ha ricordato Fabrizio. Due ce ne sono state. Due omicidio. Uno recente, uno anche recente. Mi stavi dicendo, Luca, scusami... La richiesta di arresti era partita prima dell'ultimo omicidio. Del secondo. Del secondo omicidio. Esattamente. No, ma più caldo, Fabrizio, volevo prendere una cosa che avevi detto giustamente, che nel business, quando si parla di business, si parla anche dei parcheggi. Perché è una cosa che uno sottovaluta, uno pensa ai biglietti, uno pensa al marketing, però c'è anche questa componente. C'è anche il catering interno allo spagno. E io ve la svelo, tra virgolette, ma anche notizia questa di oggi, che un consigliere del comune di Milano è stato indagato in qualità per corruzione perché, secondo l'accusa, era lui il referente a cui si appoggiavano per guadagnare l'appalto sui parcheggi. E per quanto riguarda la polpa. E questo si allarga? Faceva parte della società intero Milan? No, 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 assolutamente no. Consigliere comunale di Milano e regionale della Lombardia. E vi dico, c'è stato... Vuol dire che hanno una grande ramificazione? È una ramificazione enorme. Sono delle piovre. Eh, sarà complicato, ma insomma... Fedez, per far vendere una sua bibita, non so se è sua o che lui sponsor... Ma credo che uno dei 19 arrestati sia proprio la guardia... Sì, sì, sono le guardie del corpo di Fedez. Che per far vendere una sua bevanda... Doveva pagare. No, all'interno dello stadio, lui si rivolge a questi ultra, a questi ultra del Milan, che poi hanno... i quali gli dicono te la faccio vendere sia al Milan che alle partite del Milan che alla partite del Milan. Penso il potere che hanno. Quindi c'è una contaminazione, come dicevi tu, a tutti i livelli. No, comunque scusatemi, volevo soltanto fare una precisazione. Allora, la Juventus venne scagionata sul fronte penale, poi però aveva dei problemi comunque sul fronte sportivo, eh? Perché ad Agnelli, proprio per questi contatti che aveva avuto con i tifosi, gli vennero chiesti inizialmente due anni e cinque mesi di squalifica più cinquantamila euro di multa. Che poi, in appello, gli vennero tolti e si rivinitò sulla multa perché alla fine Agnelli riuscì a dimostrare, ma io avevo denunciato tutto questo. Ecco, io questo... E mi ricordo ancora, era stato allora, l'allora procuratore federale. No, no, il procuratore federale era... Qui è Chine. Qui è Chine. Qui è Chine. In questo caso è Chine. Diciamo una cosa... In questo caso è Chine. Capuano. Capuano. Allora c'era Capuano. Vi ricordate che tirò fuori addirittura un'intercettazione che poi venne contestata perché non era vera? No, non risultò farloca. Ma nonostante tutto questo si mobilitò anche la commissione antimafia parlamentare per sentire Agnelli, per sentire i dirigenti, sentire Capuano. Per renderti riconto. Io spero... Questa è mafia pura, eh? Questo è mafia pura. Però solo una cosa adesso. Io dico solo una cosa. Allora, la Juventus dal 2014 al 2018 si presi i ventilatori di melma addosso per questa situazione, eh? Io non voglio augurare niente a nessuno e non voglio nessuna vendetta. Dico soltanto che il procuratore federale e poi... Il procuratore federale agisca nella stessa maniera. Beh, se agisce nella stessa maniera finisce niente. Guarda, per esempio... Per esempio... È vero che all'inizio sono stati chiesti due anni però poi alla fine... Ma c'è sempre... La Juventus è uscita in consa. Ma quello... Perché l'ha ricordato il professore l'ha sottolineato più volte stasera perché c'era stata quella denuncia e quello allora limitò i danni. Ma vedete... Ma se non ci fosse stata quella denuncia... Ma dipende molto dalle... Allora, molto dipende dalle società. Insomma, io per le notizie che ho, per carità, ma guardiamo per esempio Napoli che siccome sappiamo che cosa è Napoli, sappiamo che Napoli è Camorra, invece De Laurentiis ma non solo De Laurentiis ma anche Ferlaino a suo tempo avevano creato un cordone sanitario intorno. Anche l'ho dito. Sì. Quello che posso... Quello che posso... Credo escludere con una quasi certezza è il commissariamento. Sul commissariamento credo che sia un po' complicato perché è vero che... Naturalmente ci saranno stati i rapporti Marotta o chi altro. Però la società in sé non è presa di mira. Quindi penso che il commissariamento da parte della federazione non sia praticabile. Perché dalla tua esperienza abbiamo visto che anni fa, due anni fa... Quanto era, professore? Due anni fa, tre anni fa la Juventus? Sì, tre, quattro anni fa. Insomma, è partito dalla Juventus. Adesso si è arrivati a Inter e Milan. C'è la possibilità che, insomma, si possa estendere... No, no. ...ad altre squadre? Assolutamente no. No? Scusa, eh. Prego. Assolutamente no. T'ho fatto l'esempio del Napoli perché era certamente... Io mi l'ho detto si può estendere al Napoli. Conosciamo benissimo la situazione di tutti quanti. Ci sono... Scusa se mi sono permesso. Prego, prego. Ci sono situazioni antipatiche, ci sono situazioni da gestire. Prima il direttore lo stava... Parlavamo e ce lo stavamo ricordando. Però quella roba lì dell'andrangheta o comunque di mafia qui non c'è. Questo è un fenomeno nuovo, Nello, vero? Beh, sicuramente sì. Quando io avrò la fortuna ho il piacere per me. Non so, per le società che ne facevo dirigente. Francamente i problemi erano un po' diversi. Erano di altro genere. Si rischiava la multa per lancio di mortaretti. Per scarico di mortaretti. Per offese. C'è troga. Eh, troga ce n'è quanta ne volete. Oggi purtroppo da quello che risulta dai giornali ovviamente io non frequento le curve per cui non lo posso dire però leggendo i giornali o sentendo le televisioni i problemi sono ben altri e ben difficili da controllare perché come dicevo poc'anzi per entrare negli stati non c'è il metadetector non c'è il controllo del pappamento del 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 tifoso adesso vorrebbero introdurre il riconoscimento faccialo sentito oggi allora ma non non vai a vedere se quella faccia è uno spacciatore acclarato degli episodi cioè non dimentichiamo che Genoa Juventus è stata giocata a porte chiuse per un problema per scontri eccetera in cui la delinquenza comune è mischiata ma non possiamo dimenticare che Genoa Juventus ci sono episodi Fabrizio sono d'accordo con te però se tu ascolti i calciatori del Genoa e della Juventus giocare in uno stadio vuoto senza il tifo non è la stessa cosa che giocare in uno stadio dove c'è il tifo allora va dato merito va dato merito a questi tifosi l'infiltrazione della delinquenza comune che fanno le coreografie come diceva Maurizio cioè indubbiamente sono impagabili per il tifo per quanto spronano la squadra per quanto è è chiaro che purtroppo nella quantità dei tifosi poi si viene a nascondere lo spacciatore e questo purtroppo è sempre a livello di cronaca è interessante la città però non è che non è che solo negli stati perché sono i bisogni altrimenti si appre di piombo sulle società sempre di piombo sempre a livello di cronaca ma non è domani si va a sentenza sul caso di Dennis Bergamini che è il calciatore di Cosenza morto quasi morto ammazzato un omicidio spacciato per suicidio ed è successo più di ed è successo trent'anni fa esatto ed era c'era coinvolta la la allora Pampa e Andrea torniamo archiviamo questo caso poco edificante per nulla edificante e torniamo alle cose che ci piacciono di più cioè il calcio giocato ai gol alle possibilità insomma alla Champions League che è lo spettacolo diciamo principe più importante diciamo del nostro del calcio la massima espressione del calcio europeo vado subito dal Pampa poi vado da Andrea per chiedergli dimentichiamoci questa seconda giornata che vede le partite che abbiamo visto ma quali sono le squadre italiane che rischiano di più in questo in questo mega girone unico che a me non piace per niente ma insomma è quello e invece le squadre che dovrebbero diciamo avere una vita più facile allora innanzitutto come diceva il prof la Juventus è una partita molto difficile il prossimo turno perché questo Lipsia ha due attaccanti forti Openda e Sesco scusami Maurizio ma prima ho imparato una nuova parola capito io ti ringrazio perché io sono argentino e imparo ogni giorno qua in Italia perché Marcello ha detto che la Juventus è in assestamento e quindi non posso andare avanti dopo aver imparato questa parola e quindi farà fatica la Juventus contro questo Lipsia perché appunto la Juventus è in assestamento di sicuro ma guarda però attenzione però attenzione Pampa cioè la Juventus fa fatica soprattutto con le squadre che si chiudono con le squadre che giocano a calcio ne fa un po' meno quindi io sono un po' più però queste squadre che giocano a calcio bene per il momento non è che ne abbiamo viste tantissime no dico io parlo dell'Ipsia io parlo dell'Ipsia appunto voglio dire è un bel test anche per capire con delle squadre che giocano bene al calcio cosa può fare la Juventus perché qui sarebbe un inedito straniere senti no ma io credo Pampa ti volevo rassicurare su una cosa io credo che Marcello avendo vissuto tutta l'epopea di Conte alla Juventus è qualcosa diciamo ha tenuto per sé ha fatto tesoro e quindi insomma Maurizio Maurizio scusami il Napoli l'anno scorso è arrivato decimo e adesso deve vincere lo Scudetto la Juventus è arrivata terza e quest'anno è una squadra aspetta che la rilevo di assestamento di assestamento sì lo vedi come come si diverte il Pampa quando impara parole nuove in italiano Maurizio grazie Maurizio sto piangendo allora visto lasciamo piangere un po' te l'ho insegnata io la parola però e vado da Andrea ma prima di andare ad Andrea visto che adesso insomma Dana ha un embargo iniziamo a mancarti sì mi manchi sempre però voglio dire adesso sei imbargata per il raffreddore quindi ti posso dare qualche novità dalla redazione con Mattia che ci dice il sondaggio come sta andando abbiamo il risultato finale del sondaggio e tra l'altro torniamo in tema perché è sul Napoli lo ricordiamo la domanda era senza le coppe con questo gioco con questa alchimia che ha costruito Conte questo Napoli può arrivare fino alla fine del campionato con questa marcia inizialmente il risultato era un plebiscito ovvero sì quasi al 100% più siamo andati avanti più è diventato un sì ovvero al 62% al 38% però si è riequilibrata la situazione non c'è quindi una completa e assoluta fiducia su questo Napoli o quantomeno come diceva il Pampa giustamente viene da un decimo posto quindi conviene essere un po' Caudi questo è un po' il senso del sondaggio allora vado da Andrea per girargli un po' la domanda per quanto riguarda la Champions League ci sono delle squadre italiane che per attitudine noi l'abbiamo detto spesso dell'Atalanta che per attitudine sono più europee in questa Champions League e se sì quali sono? l'Atalanta assolutamente l'Atalanta è una squadra che può fare meglio nelle coppe paradossalmente che non il campionato italiano lo farà ancora quest'anno perché se ne parla sempre all'inizio dell'Atalanta però quest'anno poi alla fine arriva sempre quello che ha fatto lo scorso anno è irripetibile il Bologna onestamente il Bologna è un po' quella più in difficoltà ma anche perché ha cambiato modo di giocare i giocatori importanti insomma poi il primo anno io credo che invece per quanto riguarda l'Inter si farà trovare assolutamente pronta quindi lo ha dimostrato e devo dire che paradossalmente la grande partita fatta con il City ha fatto perdere un po' almeno al 50% il derby proprio per quella partita ma non per la situazione fisica che non ha recuperato perché in quella settimana hanno le energie psicologiche le hanno messe assolutamente quasi tutte per quella partita il derby si prepara da solo ma è andata così comunque al primo turno non vorrei dire ma di 5 italiane 3 hanno fatto 0-0 cioè non è che abbiamo fatto una una ha vinto il Milan ha perso male e 3 hanno fatto 0-0 e bisogna dire che anche in Coppa la Lazio qualche squilletto l'ha dato non era un avversario non era un avversario di quelle terrificanti in Europa League però insomma il 3-0 nel primo tempo questa volta lo 0-0 non l'ha fatto la Juve in Champions League esatto ecco ecco l'ha fatto la Roma però l'ha fatto la Roma però io sono d'accordo con Andrea sull'Atalanta perché vi faccio fare una riflessione magari la facciamo tutti assieme nel campionato italiano Gasperini non sta puntando e glielo dicono i risultati però guarda caso sta facendo bene in Coppa non vorrei che lui avesse preparato la squadra per puntare una partita ha fatto 0-0 però ha fatto sì ha fatto 0-0 ma contro chi? con l'Iber con l'Arsenal no no io lo so con l'Arsenal con l'Arsenal con l'Arsenal che la settimana dopo ha fatto 2-2 a Manchester col City e la settimana dopo ha fatto 2-2 allora io credo 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 che conoscendo un po' l'allenatore Gasperini credo che una preparazione particolare per la Coppa lui la stia facendo ma è un mio pensiero per carità ma è plausibilissimo è un piacere di parlare con Gasperini assolutamente come Andrea dicono c'è un allenatore e magari ci può dare il suo giudizio come Andrea dicono anche che l'Inter sembra stando a delle teorie proprio per la lunghezza degli impegni che ha cioè la lunghissima Champions League il la Coppa del Mondo a fine campionato e tutto il campionato naturalmente quindi tutti gli impegni che si sosseguono abbia ritardato la preparazione è plausibile secondo te questo? per me no per me no per me no quando quando parli io non sono per esempio d'accordo sul fatto che c'è una preparazione per il campionato per la Coppa devo dire che uno l'allenatore può scegliere sicuramente qualcosa di più se punti più alla Coppa stai tranquillo che la squadra più competitiva la tieni per la Coppa è lì che devi vedere non è tanto la preparazione per me io poi sono tra l'idea che un allenatore non molla nulla non credo che Gasperini possa scegliere uno o l'altro certo se deve decidere una formazione magari può puntare più lì perché il campionato lo conoscono di più perché l'Atalanta l'Atalanta è una squadra che in Europa può far male a tutte lo ha dimostrato nel campionato italiano lo cominciano oramai da anni la cominciano a conoscere quindi farà sempre bene però per me è più difficile che l'Atalanta ripeta il campionato dello scorso anno è un campionato che non va davanti in Coppa guarda un po' come la penso